Proteggere le acque dei nostri fiumi e delle falde acquifere e accrescerne la qualità, tutelare l'acqua per centrare gli obiettivi dell'Unione Europea. Tutto questo è alla base del piano di tutela delle acque al quale la Regione Toscana sta lavorando anche attraverso la consultazione di cittadini e istituzioni. E all'auditorium di Santa Pollonia a Firenze è stata organizzata una giornata di confronto e partecipazione, rivolta sia agli stakeholders organizzati sia a tutti quelli che sono interessati alla tutela dell'acqua. Il piano di tutela delle acque non è un semplice adempimento, non è l'attuazione di una direttiva comunitaria, la declinazione di un piano di distretto, ma è un quadro di azioni concrete, di obiettivi che dobbiamo raggiungere per migliorare lo stato di qualità delle nostre acque superficiali e sotterranee. Un percorso partecipativo che si svolgerà su tutto l'arco del periodo di formazione e approvazione del piano di tutela delle acque della Toscana. Uno strumento complementare al piano già approvato lo scorso anno, quello di gestione del rischio alluvioni. Perché la filosofia che l'Europa ci insegna è quella di un approccio onnicomprensivo, quindi l'acqua è un elemento di vita, ma è un elemento che bisogna conoscere, che bisogna tutelare e che bisogna anche saper gestire, dal quale talvolta bisogna anche in qualche modo difendersi. La Regione ha acquisito funzioni di autorizzazione e di gestione degli utilizzi dell'acqua. A questo si aggiungono le politiche attive che riguardano per esempio la realizzazione di quegli accordi di programma che oltre agli obiettivi di tutela della risorsa idrica danno risposte a distretti produttivi come cartario, conciario e tessile in sinergia con gli imprenditori.